Buonasera e bentornati per il venerdì di a tutto gol. Purtroppo la Fiorentina reduce da una brutta sconfitta contro la Juventus, non andrà in finale di Coppa Italia contro l'Inter, però la prossima gara in campionato sarà domenica contro la Salernitana. Ne parleremo questa sera con Fabio Ferri dalla nostra redazione di Toscana TV. Ciao Greta, un saluto a tutti gli amici a casa. Grazie Fabio. Sonia Nichini, la signora in viola. Buonasera, bentrovati. Tornata ma un po' arrabbiata. Carica, carichissima. Carica per attaccare i giocatori viola. Gabriele Mastropietro, il nostro tifoso della Fiorentina. Buonasera Greta, buonasera a tutti. Sandro Bennucci, Firenze Post. Buonasera a tutti. Come stai Sandro? Benio io, però... Stava meglio di 76, ma direi. Dopo ci spiegherai, lo vedo un po' strano. Giulio Falciari. Prima però fammi dire Greta una cosa. Grazie a tutti i telespettatori e ai fedelissimi di Toscana TV perché domenica scorsa abbiamo fatto un botto di ascolti, va veramente uno share altissimo per quanto riguarda la diretta dello scoppio del carro. Complimenti. E' veramente una cosa, non a me, a tutta l'organizzazione di Toscana TV, ai colleghi Vittorio Betti e Andrea Vignolini. È stata una cosa bella. Ecco, la Colombina è andata bene. Purtroppo io speravo che andasse bene anche la Fiorentina, non è stato così. Ma ecco, la trasmissione è andata bene e l'appuntamento ora sarà anche per le partite del calcio storico. Greta, a te. Grazie mille Sandro. E anche Giulio Falciari in co-conduzione, ci puoi anche ricordare il numero e tutto? Sì, ciao Greta. Buonasera a tutti. Vi ricordiamo il numero ovviamente per contattarci che è il 342-197-1871. E per quanto riguarda oggi hai seguito gli allenamenti della Fiorentina. Prima di parlare di Juventus-Fiorentina, quello che è successo, ci puoi raccontare come era l'atmosfera e come stanno anche i calciatori? Sì, una seduta mattutina che è stata svolta non al centro sportivo Davide Astori ma allo stadio Artemio Franchi sotto l'acqua. Le notizie purtroppo per quanto riguarda la difesa non sono positive perché come sappiamo Milenkovic non ha preso parte alla trasferta contro la Juventus per un problema intestinale e purtroppo anche oggi non si è allenato. La Fiorentina fa sapere che sta leggermente meglio, non essendo un infortunio muscolare c'è un po' di ottimismo per il suo eventuale... Non conoscono l'imodium in Fiorentina, non ce l'hanno l'imodium. C'è un leggero ottimismo anche perché qualora dovesse star bene domani e allenarsi potrebbe tranquillamente giocare dal primo minuto e quindi riprendere il suo posto rimettendo in panchina Lucas Martinez Quarta mentre per quanto riguarda invece i tre giocatori che hanno avuto qualche problema fisico nelle ultime settimane, parlo di Nastasic, Odriozola e Buonaventura stanno tutti e tre bene e speriamo tutti quanti di poterli rivedere in campo il prima possibile anche dal primo minuto. Torriere ovviamente non si allenava oggi. Esatto, i due centrocampisti che la Fiorentina ha perso in appena tre giorni, sto parlando di Castrovilli e di Torreira, continuano il loro recupero. Castrovilli è stato operato a Roma nella giornata di ieri, ci vorranno dagli 8 ai 10 mesi, quindi veramente tantissimo prima di rivedere il numero 10 Viola in campo. Per quanto riguarda invece Torreira che è uscito anzitempo dalla gara contro la Juventus, un problema addominale che lo terrà fuori dai 10 giorni alle due settimane. Tutti speriamo di poterlo rivedere in campo contro il Milan. Grazie mille Giulia, allora dopo affronteremo anche questo centrocampo che sarà un po' diverso proprio per la mancanza di Castrovilli e Torreira. Intanto guarderei questa grafica con quattro aggettivi. Orgogliosi, delusione, amarezza e catenacciari. Perché? Perché ai quattro ospiti ho chiesto di scrivermi questi quattro aggettivi inerenti proprio all'ultima partita, ovvero quella in Coppa Italia contro la Juventus. Fabio Ferri ha scritto, orgogliosi, perché? Sono già pronto a prendermi di strada. Io lo sto puncando. Allora, Stonia ti sta guardando malissimo. Io lo sto puncando. Mi ho già detto, è nel periodo non collegato. No, lui è il va-benista della situazione, il va-benismo mi sta sulle balle. No, allora, provo a motivare il mio va-benismo, provo a motivarlo. Non so se sarò così bravo da convincerti, però penso, insomma, io ho fatto, come dire, un passo ulteriore dopo la gara. Insomma, ci siamo allontanati dall'appuntamento contro la Juve che ha segnato la fine del percorso in Coppa Italia, però ha posto fine a un cammino in Coppa Italia virtuoso per la Fiorentina perché ha ottenuto risultati importanti, risultati anche che, secondo me, hanno significato molto a livello morale nel corso della stagione. Mi viene in mente il successo con il Napoli, quello con l'Atalanta, partite in cui, insomma, abbiamo capito che questa Fiorentina era forte. Quindi, è chiaro, contro la Juventus è arrivata una delusione, come, insomma, dirà anche Sonia e penso poi gli altri colleghi in studio. Io, insomma, c'è un po' di ammarezza, è innegabile, c'è un po' di delusione anche per quello che è stato l'approccio tattico della Fiorentina, magari un po' di dubbi su quello che è stato l'approccio anche scelto dall'italiano, considerando pur sempre le assenze, però io voglio essere ottimista, ecco, voglio vedere la parte mezza piena del bicchiere, esatto, e quindi voglio essere orgoglioso di questa squadra che comunque si è spinta così lontano nella Coppa Nazionale. Eh, Sonia, Nichini, delusione, perché fai così? Cioè, mi senso che, orgogliosi di questa squadra? Anche sì, cioè, non è che la partita con, hai detto, cioè, convinti che questa Fiorentina era forte, vorrei dirti, va bene, stia che hai sbagliato verbo, quindi vuol dire che non sei convinto neanche tu. Va bene, quindi, passiamo oltre. Sono subito in castagna, apprezz'ottimismo. No, allora, questo non vuol dire che io non sia orgogliosa della Fiorentina, non sia orgogliosa di italiano, non sia orgogliosa del campionato che sta facendo, non sia orgogliosa del cammino che ha fatto in Coppa Italia. Perché, se te, dicevo prima a lui, se io ho un figlio che fa una marachella, gli tiro uno scappellotto, ma non è che smetto di volergli bene. È uguale con la Fiorentina e con italiano. Mi sembra una partita da scappellotto, non per questo che uno non voglia riconoscere quello che è stato fatto fino ad oggi. Però, in una partita importantissima, che poteva essere determinante per la storia di quest'anno della Fiorentina, io onestamente non ho capito alcune scelte, che ormai le sanno tutti, il portiere, i conè in una posizione che non è la sua, mi dico io non ho ancora trovato quella che è sua, figurati se lo metti in una posizione che non è sua. Questo va in panico, poro figliolo. Quindi, scelte non concepite, ma anche l'approccio. Mi è dispiaciuto perché la Fiorentina vista a Napoli, la Fiorentina vista a San Siro, eccetera, io l'ho detto anche qui, per me la Fiorentina gioca un calcio bellissimo, mi piace, è una squadra che dà soddisfazione, a carattere, a personalità. Boom, niente. Cioè, hai visto una partita completamente diversa rispetto. Io ero convinta, io ve lo dico, io ero convinta che la Fiorentina ce l'avrebbe fatta, per quello che avevo visto, per i segnali, per l'entusiasmo che era in tutti, io ero convinta che questa energia che si trasmette fra squadra e tifosi, come nelle ultime partite allo stadio, poteva portarci a questa impresa. Purtroppo niente, quindi per me l'aggettivo che ho dato io, la mia considerazione è dovuta alla delusione, io sono delusa, perché mi dispiace, non è successo niente di quello che io mi aspettavo da questa partita. Do un po' la colpa a italiano, e comunque gli voglio bene, e continuo a volerli bene, e continuerò ad applaudirlo. In percentuali quanta colpa hai in questa partita. Eh, insomma, ciccia, se tu mi metti Dragoschi che l'esse mesi con gioca titolare, se tu mi metti con E in una posizione di centrocampo, abbastanza vogliamo, non voglio fare percentuale, non lo voglio dire, perché poi ai giocatori, tanto possesso palla, tanto passaggio in orizzontale, niente, purtroppo non si percepiva la sensazione che credessero di potercela fare. E questo mi ha dispiaciato molto. Sono delusa. Mentre Gabriele, amarezza. Amarezza, esce amarezza perché secondo me Greta tu ce la potevi fare, ce la potevi fare perché non è una delle... Però ha perso 2-0, eh. Sì, ma, vabbè, l'ultimo gol, diciamo, ormai era già andata, si sapeva purtroppo, però mi dispiace perché potevi, avevi mezzi per farcela. Hai giocato, diciamo, sai giocare anche meglio. Ecco, non è che si è giocato male a Torino, però secondo me la Fiorentina sa giocare anche meglio. E quindi gli è mancata un po' di cattiveria sottoporta, è vero Perino ha fatto le sue parate, per l'amore di Dio. Però io ho visto parecchio tiki-taka, 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 però poi alla fine, in conclusione, di azioni concrete da gol, secondo me non fare gol a questa Juve in 180 minuti, insomma, almeno un gol lo dovevi fare, perché comunque è una Juventus che ha dei suoi limiti e l'ha fatto vedere anche in campionato. E questo sì, poi io sono d'accordo con tutti gli altri aggettivi, perché comunque siamo orgogliosi di tutti, di Italiano, anche se secondo me ha sbagliato. Poi, io ripeto, nel segno del poi siamo tutti bravi, però effettivamente poi ora ci arriveranno subito a criticare Italiano, non siamo a criticare Italiano, però in questa partita io ringrazio Italiano perché ci ha fatto arrivare a un passo da un sogno, quindi per me è già un miralo quello che sta facendo. Ci sta portando, ci sta facendo lottare con l'Europa. Anche perché in questa si parla di Coppa Italia, in campionato, la Fiorentina è stata. Non è che si voglia sviluppare il suo vario. Esatto, però se dobbiamo valutare la partita stessa singola, ti dico, non mettere Dragoschi, che comunque quest'anno quando è stato messo in causa, in tre partite mi è stato espulso due volte, mi ha fatto fare un'altra partita e me l'ha fatta perdere, quindi nel senso vuol dire che non è un problema più che fisico, è secondo me mentale. Non c'è purtroppo con la testa nel campo, artisticamente parlando. E questo mi dispiace, in una partita del genere secondo me non dovevi cambiare niente. Te avevi la tua squadra, quello è il tuo timbro e vai a fare la tua partita. Non era la partita per fare degli esperimenti, secondo me. Te avevi la possibilità, intanto metti Terracciano in porta. Poi è l'oggio, capito? Quindi nel senso davanti avevi Cabrali, con lei mettilo al suo posto. Metti tutti ai loro posti e secondo me la Fiorentina poteva fare meglio. Sandro, pagelli insufficienti. Sì, le mie, sì, dopo se vuole le vediamo. Catenacciari si riferisce ovviamente all'Aivento, perché è incredibile che una squadra che è lassù e poi la squadra che punta, che ha il centravanti importantissimo, pagato tantissimo, abbia fatto in due partite la figura della squadretta provinciale di periferia che è stata presa a pallate dalla Fiorentina, sia a Firenze, sia a Torino. Allegri come Gifo Viani. Ora voi, se siete ragazzi, Gifo Viani... Io mi avevo letto salto. Io mi avevo letto salto. Perché l'avevo letto un compagno di Banco. Gifo Viani era l'inventore del Vianema, ma sopra il Vianema, perché era allenatore della Salernitana, che si doveva salvare. Poi non si salvò, però giocava contro le grandi con il cosiddetto Pullman davanti alla porta. Certo. Perché chiaramente doveva essere così. Negli anni Sessanta molte squadre italiane giocavano in quel modo. Oggi il catenaccio è, diciamo così, rigettato da tutti. E ho visto invece molti giornali, molti colleghi, hanno esaltato la Juventus dopo la qualificazione per la finale, la finale d'Italia contro l'Inter, eccetera. Cioè, è una Juventus assolutamente inguardabile. inguardabile che ha fatto la partita sparagnina che doveva fare, che alla fine le ha dato ragione, ma insomma, non diciamo che è un'esaltazione il gioco del calcio, perché non ci siamo. Da Fiorentina dove ha sbagliato? Ha sbagliato perché ha preso a pallate la Juventus, ma non è riuscito a buttarla dentro. Questa è una cosa incredibile, perché in questo gioco, puoi essere bravo quanto vuoi, puoi avere un possesso palla strepitoso, come ha avuto la Fiorentina sia nella partita di Firenze sia nella partita di Torino, ma la devi buttare in quel rettangolo. Che conto è il risultato, eh? Infatti, se non la butti lì dentro, sei fuori. Non mi sono piaciuti. Ho rivisto una Fiorentina montelliana o addirittura di Iachini, cioè con i passaggi orizzontali, passaggi all'indietro, gente che non sapeva a chi dare la palla, come portarla avanti. Quindi, alla fine, voglio dire, non sei riuscito, ha fatto qualche parata per in, che contro la Fiorentina stranamente tira fuori sempre il meglio di sé. Però, ecco, è una Fiorentina insufficiente, insufficiente nella fase offensiva. Bisogna che l'italiano riveda diverse cose. Poi, chiaramente, ho visto nelle mie pagelle, c'è un Dragoschi da 4,5. Uno dei voti più bassi che hai dato in tutto il campionato. Il più basso, in assoluto, sì. In tutta la vita. Sì, più o meno. Qual è il voto più basso che dai di solito? Non so se questa è la presa una sufficienza, vorrei dire, quando hai giocato. Perché sei d'accordo 4,5 con Dragoschi? Poi, aspetta, volevo, l'altra cosa, Iconee, mezzala, è come se io andassi, non so, a fare l'astronauta. È una cosa un po' diversa. Iconee non è una mezzala. È un esterno, anche bravo, che può anche tornare indietro, che può dare una mano, sicuramente, anche al centrocampo. Ma lì, l'italiano, aveva voluto fare un giochino di prestigio mettendo Iconee e Saponara e senza un mediano vero e senza un tornante vero. Cioè, con due giocatori ibridi là nel mezzo per cercare di avere più forza a metà campo. Questa poteva essere diciamo anche la mossa vincente, a patto che poi, portando tante volte la palla davanti, qualcuno la buttasse dentro. E invece non ti è riuscito. E questo è andata male, ma bisogna che la Fiorentina riesca a capire che quel rettangolo è quello e il pallone va buttato lì dentro. 4,5, Trongoschi, non sei d'accordo? Detto che la valutazione di Sandro non è una valutazione che non trova consensi, penso che in tanti hanno dato insufficienze pesanti a Trongoschi. Io dico anche valutando tutta la prestazione complessiva era stata molto positiva fino all'errore, poi dopo sicuramente è un errore che incide, che non fa passare la squadra e quindi è inevitabile. Non incide, è determinante. È determinante, esatto. Quindi è inevitabile, è un voto insufficiente. Forse mi sarei fermato al 5 più che al 4,5. Io devo dire la verità. Non scipi la media. Sì, facendo un po' di media. Devo dire la verità, io ho sempre pensato che Trongoschi fosse un ottimo portiere. Questa stagione ci ha tolto tante certezze, secondo me le ha tolte anche a lui. Mi pare abbastanza evidente che le abbia tolte anche a lui. E ho paura che... Cioè a se stesso, vuoi dire? Sì, se le è tolte... Ha perso certezze, ha perso... Poi il portiere ha un ruolo ovviamente anche molto particolare. Quando giochi poco, fai fatica... Poi fai un errore, rovini tutto. Per questo potremmo anche chiederlo a Sebastian Frey dopo. Eh magari sì, lo chiediamo a un esperto. Io dico, secondo me, a questo punto mi pare evidente che la Fiorentina dovrà poi, quest'estate, trovare un nuovo portiere titolare. Perché, con tutto il rispetto per Terracciano, non so se è la scelta per una squadra che ha ambizioni europee. E perché no, scusa? Terracciano... Per profilo, per età, per carriera. Per profilo, per età, c'è il giocatore, c'è Buffon, ha già avuto 40 anni anche di più. Con risultati anche... Terracciano è un portiere che non ha giocato tanto finora, però nel momento in cui gli dai la maglia da titolare, Terracciano, se vai a vedere, facciamo la media delle pagelle, ha sempre avuto dei buonissimi risultati. non si discute, Terracciano si è fatto trovare pronto, quindi ci mancherebbe tanto di cappello. Si chiama Terracciano, si fosse chiamato, non lo so, in un'altra maniera, si fosse chiamato Albertosi, ecco, si è stato un altro, Albertosi era un altro. Sempre nostri coetane, capito? Però Terracciano è un portiere, secondo me, che non sfigura affatto nella Fiorentina e anzi, in tante situazioni, nei momenti più difficili, Terracciano ha anche salvato delle situazioni. In più, ti aggiungo una cosa Fabio, solo per completare un tuo discorso, quando tu dici è difficile per un portiere entrare a freddo, hai ragione, però Terracciano, quando è stato l'aspetto a entrare a freddo, è comunque riuscito a non, cioè si è scaldato la svelta. Hai ragione, però ti posso dire che psicologicamente se sei il titolare e perdi il posto, lo soffri di più. Se sei il subentrante e sei messo nella condizione di, secondo me, arriva a una condizione migliore da un punto di vista psicologico. Concludo, concludo veramente, il mio più grande rimpianto, la mia più grande paura è che Drongoschi possa andare via, ritrovi delle certezze e diventi il portiere che tutti noi, insomma, avevamo intravisto. Ci sta che succeda. Può essere titolare secondo te Terracciano e se no dai dei nomi di probabili portieri che possono venire alla Frentina? Allora, io sono più della teoria di Fabio, ovvero Drongoschi è un, secondo me, un grande portiere o almeno lo era e lo ha dimostrato, ci ha salvato e sono d'accordo sul fatto che quest'anno non è stato il suo anno perché non dimentichiamoci che fino all'infortunio che ha subito nella gara casalinga contro il Napoli, Drongoschi ha fatto sempre bene e probabilmente senza quell'infortunio forse non staremo nemmeno a parlare di questo ballottaggio Terracciano-Drongoschi. Secondo me c'è un dato molto interessante tra i due. I rigori parati sembrano cavolate ma un pararigori conta in una squadra. Terracciano in carriera ha 31 anni e ne ha parati uno. Dragoschi è del 97 e ne ha parati 6. Sono cavolate probabilmente e questo è stato anche il motivo per cui l'italiano ha deciso di far giocare proprio lui in una gara in tutte le gare in cui si poteva andare ai calci di rigore. Sono i numeri che mi dipingono così sono cattiva. Scusa, non è vera questa tese. Poi volevo anche fare una menzione particolare per l'amico di Gabriele. Contro la Juventus preferisci Terracciano a Drangoschi. Assolutamente sì per questo dunque lo ringrazio per quello che ha fatto nelle stagioni passate perché ti ha salvato dalla retrocessione. In un paio di stagioni l'ultima era sempre migliore. Ti ha salvato dalla retrocessione non c'è dubbio. Questo campionato Dragoschi l'ha cominciato male lo cominciò male a Roma con quell'uscita avventata che poi meritò l'espulsione ma stavo dicendo un'altra cosa il Sui rigori forse i rigori La tesi è sbagliata secondo te quella lì è questo il punto che Terracciano non era questo stavo perdendo un'altra roba e ora mi sta sfuggendo non era nemmeno sui rigori il comunque il portiere ti deve dare sicurezza Dragoschi purtroppo anche agli stessi compagni di squadra ora quella sicurezza che gli dava prima non dà da più ecco il punto no no su questo d'accordo e poi un altro errore che secondo me è stato fatto da italiano è che è giusto far giocare il secondo portiere in Coppa Italia esatto era questo che volevo dire però Dragoschi non è un secondo portiere Dragoschi è un primo portiere che è stato declassato a secondo e quindi non ha la fiducia che può avere un secondo portiere e forse questo è stato l'errore ovvero in una gara così determinante io avrei fatto giocare Terracciano poi rispondendo alla tua domanda di prima ovvero dei nomi è ancora presto lo sappiamo Dragoschi piace molto al Southampton in Inghilterra mentre in Italia ci sarebbe su di lui anche il Napoli che probabilmente lascerà partire Meret proprio lo stesso Meret è stato affiancato alla Fiorentina anche se non ha i piedi buoni che vorrebbe l'italiano per il suo gioco e altri due nomi sono stati accostati alla Fiorentina in queste settimane sono quelli di Vicario dell'Empoli e di Cragno del Cagliari mentre da casa ci sono delle domande visto che passano tanti messaggi non so se su Dragoschi per esempio ci scrivono Drago uscita sbagliata ma giusto che la facesse Blaovic era solo in aria e comunque almeno l'ha ostacolato Biraghi lui ha procurato il gol sbagliando il rinvio c'è poco da essere contenti nell'anno in cui si poteva davvero vincere un trofeo o quantomeno arrivare in finale l'italiano non ci ha capito nulla e la partita si è persa ancora prima di iniziare Sonia su Biraghi volevo una menzione particolare perché all'amico suo che io lo penso tutte le partite quando sbaglia un passaggio l'amico suo sarebbe Biraghi sì Biraghi amico mi dispiace parecchie vincolette allora siccome io l'ho sempre dichiarato che io l'ho in antipatia quindi scusate è vero dalla prima quindi un passo mia cioè nel senso bravo quando fa bene ma quando sbaglia lui per me sbagli scusate la stronzaggine intrinseca cioè mandola tiri quella palla cioè ma è possibile mai l'opzione di buttarla indietro da abbassarti per farla passare tutto gliene dai sui piedi a a Bernardeschi mi veniva un'altra parola cioè a Bernardeschi cioè che noi stiamo tutti a guardarsi l'ex sta dietro al servo tutti dietro al servo poi ci segnano di fila quadrata e Bernardeschi cioè proprio una cosa incredibile gli ex ci tartà quadrato poi ragazzi spariamo gli alle gambe quando l'entra perché non è possibile quest'anno tutte e tre le partite all'andata ci fa il gol è il 91esimo in Coppa Italia all'andata parte da lui il tiro che è venuto e l'ha deviato ora è 2 a 0 un contatto più nulla ma insomma entra e ci fa il rosso e le palle vanno dentro miseria cane cioè non è possibile non lo so io come si deve fare e Biraghi ti ho detto quando ho visto quel gesto tecnico danno i premi tante volte per il gesto tecnico ecco il gesto tecnico di Biraghi no no ma è sbagliato cioè io insegno ai bambini che comunque va spazzata gli dai gli fai vedere i filmati di Biraghi no di Biraghi non è meglio di no perché se no si dà c'è un difesa Biraghi ha sbagliato tanto in questa partita non è che ha sbagliato tanto e secondo che cosa ha imparato la Fiorentina da questa sconfitta ha imparato ha imparato secondo me ha imparato poi c'è tanta delusione io ti dico Biraghi si sa che lascia i suoi buchi tanti tanti gol sono arrivati da lì quest'anno specialmente quindi dispiace lì ho un errore tecnico e secondo me anche di lettura perché lì la devi sparare via o via più lontano soprattutto io lo dico sui laterali è mai centrale ragazzi anzi se mi stai guardando domenica siamo contro la Fiorentina e quindi per la prima volta nella mia vita da allenatore Sandro dai 78-79 io domenica sono contro la Fiorentina te pensavo molto no infatti io gli ho detto bambini se si dovesse segnare per sbaglio per sbaglio se si dovesse non si esulta non si esulta perché per rispetto non si può invece noi ora dobbiamo dare la pubblicità e torniamo tra pochissimo le vere sfide sono quelle di ogni giorno vivile con Sustainium Plus e il suo speciale mix di vitamine e complesso di aminoacidi e dopo i 50 anni scopri il nuovo Sustainium Plus 50 Plus con la sua formula specifica a base di vitamine e complesso antiossidante Actiful per sostenere la tua voglia di energia Sustainium Plus e Sustainium Plus 50 Plus dai energia la tua energia è Menarini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e ci si possa andare tutti e sia da tutte le parti per tutto questo non serve un supereroe ma specialisti e tecnologia all'avanguardia per noi dietro a un sorriso c'è sempre una persona domenica a Salerno la Fiorentina giocherà contro la Salernitana guardiamo ascoltiamo il servizio di Gabriele Taverni La delusione per il mancato approdo alla finale di Coppa Italia dovrà essere subito messa da parte domenica torna il campionato con la Fiorentina di Vincenzo Italiano più che mai in lotta per una qualificazione europea i gigliati nel launch match del 12 e 30 avranno di fronte una Salernitana rivitalizzata dagli ultimi risultati rientrata di fatto in piena lotta a salvezza dopo un campionato ai margini nell'ultimo weekend di campionato i Granata sono tornati alla vittoria in trasferta sul campo della Sampdoria a distanza di tre mesi dall'ultimo successo ripetendosi poi alla Dacia Arena contro l'Udinese spuntandola per 1-0 nei minuti finali agguantando Genoa e Venezia con le quali compone il trio all'ultimo posto della graduatoria e l'undici titolare torneranno dalla squalifica Pasquale Mazzocchi e Milan Diuric pronti a dar manforta ai propri compagni e il reparto offensivo di Nicola dovrebbe essere completato da Bonazzoli con l'ex Ribery che inizierà l'incontro dalla panchina l'italiano torna a pensare al campionato ma i problemi non mancano per il tecnico gigliato tanti interrogativi da sciogliere tra i pali tornerà Terracciano dopo la Coppa Italia davanti a lui si candida ad un posto Driozola dopo uno stop di qualche settimana a causa di acciacchi fisici così come Milenkovic che dovrebbe superare i problemi intestinali di queste ore per affiancare Igor e Biraghi nel quarteto difensivo problemi anche a centrocampo con Torreira Out e Buonaventura in dubbio Amrabat Malè e Duncan comporranno la mediana a tre in attacco Nico González e Iconé accompagneranno Piontech che dovrebbe vincere il ballottaggio con Cabral Grazie mille a Gabriele Taverni grazie anche per il messaggio simpatico che ci ha letto Giulio Falciai ovvero che io e Fabio abbiamo lo stesso parrucchiere grazie mille Mi sa anche ascoltando le parole di Gabriele come ci ha accennato prima Giulio Falciai è un centrocampo un po' diverso se possiamo guardare la grafica per l'assenza di Torreira e Castrovilli ci sono quattro giocatori per tre maglie con un punto interrogativo su Buonaventura Sì esatto perché come vi avevamo anticipato due elementi molto importanti del centrocampo non saranno a disposizione ovvero Torreira e Castrovilli Buonaventura si sta allenando da circa una settimana con il resto del gruppo dopo un lungo stop di quasi tre settimane quindi ancora non è al top della condizione e proprio per questo viene da immaginarsi un centrocampo tutto africano per la gara di domenica contro la Salernitano ovvero con i due marocchini Malè e Amrabat e invece con il ganese Alfred Duncan Sonia bella sta io vorrei sapere una cosa te sei andata agli allenamenti ma mi spiegate come mai Buonaventura lo porta in panchina da due partite mi sembra che il Venezia era in panchina no no solo contro la Juventus Odriozola c'era però ecco appunto su loro due io comunque non riesco a capire come mai che cavolo hanno per non rientrare Odriozola va in panchina non è mai possibile che giochi l'italiano ne parlò in conferenza stampa di questa cosa e proprio parlando della partita con la Juve disse verranno saranno disponibili di fatto ma non avevano tante chance di scendere in campo perché ancora non recuperati al meglio diciamo proprio per questa grande crisi diciamo a centrocampo sono stati accostati alla prima squadra i due primaveri ovvero Corradini e Alessandro Bianco e come sono loro come Alessandro Bianco è molto interessante lui gioca sia da regista che era anche a Moena ha fatto una gran parte del ritiro esatto anche un bel ritiro esatto giocò qualche partita addirittura da titolare che sa che infatti in questo finale di stagione ovviamente molto difficile se non impossibile vederlo dal primo minuto in queste ultime partite però ecco si potrebbe vedere qualora dovessero esserci veramente delle mancanti senza sostituzioni appunto con tutti questi infortuni senza nemmeno dimenticarsi che Amrabat è diffidato quindi se dovesse prendere un giallo contro la Salernitana sarebbe veramente una grossa crisi contro l'Udinese perché ci sarebbero soltanto due giocatori se Bonaventura non riesce a recuperare ma poi vogliamo scusate sapete io come c'ho nel cuore Castrovilli ma vogliamo dire che questo ragazzo faccia una gita all'Urdes perché non è possibile cioè aveva ricominciato a giocare da un mesetto a livelli buoni è sfortuna non è tanta non è possibile ragazzi non è possibile guarda io ti giuro veramente pensavo fosse visto quando arriva la Baredo tanto ora si rialza porca miseria proprio una sfortuna incredibile poi da te si acciacca anche Torreira insomma che Torreira oltretutto è il faro di questa squadra insomma spengere il faro in questo momento della stagione in cui a parte il secondo tempo a Torino ma nello sprint finale che è da fare perché io sono più che ottimista però ricordiamoci che dobbiamo incontrare squadre che rispondono al nome di Roma Milan Juventus quindi non è che la Salernitana è una passeggiata di salute ma io sarei attenta comunque a questa Salernitana perché comunque vuole rimanere in seria è una passeggiata di salute allora guardiamo le probabili formazioni della Fiorentina che ci ha fornito il nostro Fabio Ferri alla mia destra un 4-3-3-D Vincenzo Italiano con in porta Terracciano difesa venuti Milenkovic Igor Biragli a centrocampo Duncan Amrabat e Malè e davanti Gonzales Cabrale Sottil sono andato in controtendenza con il buon Taverni sì è vero rispetto al servizio però ci serve per discusere io credo in Milenkovic soprattutto chiedo il fatto dell'imodium credo che si troveranno poi quella famosa di modium e penso che insomma l'italiano difficilmente in questa stagione ha fatto a meno di Milenkovic anzi quando l'ha avuto disponibile di fatto l'ha schierato sempre come diceva anche prima Giulio non essendo un problema muscolare non essendo un infortunio ma essendo appunto un influenza uno stato influenzale mal di pancia non lo so non sono un medico però penso che se dovesse appunto recuperare già domani potrebbe essere suo il posto da titolare per quanto riguarda il centrocampo ne parleremo abbiamo già detto io vedo sottile perché secondo me può essere come dire la sua partita per rilanciarsi anche un po' rispetto ad altri esterni un bambinista che lui riesce fuori mi sono state date a questo ragazzo un sacco di opportunità e però mi sembra che mi sembra che è sempre più o meno non entusiasmato a gara in corso quindi non è sempre sempre è più difficile è parte anche da titolare non mi pare che sia cambiato niente però vabbè Gabriele e Sandro queste probabili formazioni io ti posso dire che il centrocampo è quasi obbligato ecco poi salvo esperimenti sì salvo salvo esperimenti però anche cioè adesso non mi sento di fare veramente gli esperimenti sono partite troppo importanti te incontrerai una salernitana secondo me con i denti avvelenati forse forse guarda nel momento peggiore per incontrarla perché se l'avessi incontrata qualche settimana prima anche un mese fa ma tre settimane fa probabilmente era una partita diversa adesso c'è uno stadio a Rechi sold out mi dicano quindi biglietti ho letto a due euro hanno venduto proprio per sostenere la squadra anche se è molto difficile credano nella salvezza però io ti dico la Fiorentina deve fare assolutamente risultato mi aspetto una salernitana che vada potrebbe fare due tipi di partita o ti aspetta andare contro piede ma non penso io penso che parta forti hanno troppo bisogno dei tre punti esatto loro hanno bisogno troppo dei tre punti secondo me questa cosa che loro partiranno forti secondo me potrebbe aiutarti perché potrebbe giocare a tuo favore perché a questo punto loro lascerebbero degli spazi e lì te devi essere scusa visto che sei mister a questo punto vedi che la mia intuizione di Sottil con i suoi straffi con la sua velocità in contropiede può funzionare Sottil ci può stare a me Venucci non è d'accordo a me personalmente mi piace il Tidenti con Cabral e Nico Gonzalez Sandro no dunque secondo me questa è una delle partite più difficili per la Fiorentina anche secondo me e l'ultima volta io vi ricordo quando giocò contro il Venezia la Fiorentina tutti mi avete detto no Greta vinciamo assolutamente e poi la Fiorentina ha perso è stata una delle vinti che avevano illuso no no io Salerno è una tappa determinante per la Fiorentina perché non può permettersi di perdere però la salernitana non ha il dente magari avessi il dente la salernitana è galvanizzata è un'altra cosa la salernitana è lanciatissima dopo queste vittorie in più deve recuperare una partita e già non è più ultima in classifica quindi cioè troverai uno stadio ecco qua la classifica e poi troverai una squadra che tra l'altro la serenità non ha partita in meno rispetto al Genoa perché dovrà fare uno scontro diretto con il Venezia giovedì troverai uno stadio veramente da dove devi metterti nel metto per entrare dentro l'altra cosa è una squadra che ha fiducia in se stessa ecco probabilmente la salernitana domenica farà la Juventus cioè quello che avrebbe dovuto fare la Juventus lo farà la salernitana l'attaccando non ti darà tregua Fiorentina è in una situazione di difficoltà perché mancando Torreira a metà campo sicuramente gli manca il faro e gli manca anche quello che poi davanti magari è il più lucido di tutti in quel famoso rettangolo Torreira la butta dentro e gli altri no la partita va presa va studiata molto bene perché se dovesse fare italiano quello che è il suo istinto quello di fare una partita d'attacco può anche rischiare perché non ha la squadra in questa situazione capace di fare il tipo di gioco che con Torreira la Fiorentina ha fatto a Napoli ha fatto a San Siro contro l'Inter c'è una situazione di difficoltà contro un avversario che sarà difficilissimo da contenere la Fiorentina però non può permettersi di perdere non può permettersi di perdere cioè tre punti devi prendere tre punti sono obbligatori se vuoi continuare nel sogno europeo perché altrimenti dopo guarda il calendario è terrificante perché c'hai la partita con la Roma dopo infatti lo analizzeremo poi c'è la partita a Milano con il Milan poi c'ha la Juventus in casa tranne la trasferta che comunque non è facilissima a Genova contro la Sampdoria quindi voglio dire se a Salerno dove quasi tutti sono passati indenni finora ecco ora se te non fai tre punti rischi di rimanere indietro nella tua tabella e quindi la partita l'italiano dovrà studiare bene e questa volta non potrà permettersi di sbagliare nulla questo è una partita veramente ecco è una partita chiave è una partita chiave Giulio da casa i messaggi cosa chiedono abbiamo il dente avvenenato dopo la bomba carta di qualche anno fa che ci è costato caro una domanda per Sonia qualche anno fa sono vent'anni fa ma comunque va bene ma non ci si dimentica sapendo della partita una domanda per Sonia se ci penso sono trent'anni fa ma io e Sandro ci sarà sempre noi ci si doi da tutto ne stanno zitto minuto c'è pazienza una domanda per cui banco sono indisciplinati sapendo della partita importante di Coppa Italia nel secondo tempo contro il Venezia l'italiano non poteva togliere Castroviglia e Nico González infatti abbiamo rischiato di perdere pure lui quando si è arrotolato in campo allora sui rotolamenti di Nico González potremmo aprire un trattato perché come ha fatto a non farsi male contro il Venezia quando è caduto era di gomma no vabbè nel senso per me Nico González esagera e quindi vorrei finire nella schiera tra quelli come Chiesa che fu definito un cascatore perché non è un pochino esagera il ragazzo basta lo sfiorino fa delle contorsioni che a me non piacciono particolarmente ora con il senno di poi ragazzi come si fa a sapere che Castrovigli si azzoppava in maniera così grave poteva tutto e non poteva non è che col Venezia si è fatto il parzale ci sono 4 a 0 e chi si è visto si è visto cioè ti ha vinto 1 a 0 non è che nonostante tutto tu potevi mai stare tranquillo fino al fischio finale si sa perfettamente quando sei solo 1 a 0 con chiunque tu giochi perché una palla persa così o un tiro o un rimpallo o una cosa o un'altra è sempre pericoloso quindi poteva poteva tutto ma io credo che si dice che è un mago ma la palla di vetro penso non ce l'abbia ancora per sapere che si sarebbe infortunato Castrovigli insomma sì secondo me la gara contro la serenità non è tutt'altro è tutt'altro che da sottovalutare soprattutto perché è vero che noi dobbiamo fare punti più possibili per l'Europa così come loro lo devono fare per la salvezza quindi diciamo vincerà chi ha più fame ovvero chi deve essere la serenità avrà più fame della Fiorentina nel raccogliere punti per restare in Serie A o la Fiorentina per finalmente ottenere una qualificazione in Europa ma non è comunque semplice perché appunto ci sarà uno stadio gremito di persone quasi più più di 15.000 tifosi che poi sono caldi esatto soprattutto non dimentichiamoci che è un campo dove hanno pareggiato sia Juventus che Mila e guarda mi vuoi sapere la reazione scusami Greta di come prende la Fiorentina il discorso dell'eliminazione dalla Coppa Italia cioè io spero che il contro colpo psicologico sia assorbito velocemente perché poi sennò diventerebbe complicato affrontare questo sprint finale ovviamente le due rose non sono nemmeno da paragonare però guardiamo la formazione della Salernitana Giulio sì esatto perché dovrebbe partire dal primo minuto in porta l'ex conoscenza della Fiorentina sepe ha fatto perdere un fantacalcio mamma mia mentre appunto in difesa proponiamo Ghiomber Radovanovic e Fazio anche se c'è un'ultima ora che riguarda proprio Radovanovic che è stato adattato lui in realtà nasce centrocampista ma è difensore e ha subito un problema muscolare e quindi rischia appunto di non poter giocare la gara contro la Fiorentina al suo posto potrebbe esserci il rumeno Dragusin che è un giovane difensore in prestito dalla Juventus per quanto riguarda invece il centrocampo un 3-5-2 Mazzocchi Ederson Boinen Coulibaly e Ranieri che tra l'altro è stato uno dei migliori della Salernitana quest'anno in prestito dalla Fiorentina e chissà che non possa tornare anche per restare a Firenze magari nel ruolo come vice Biraghi mentre la coppia d'attacco potrebbe essere firmata con Dayu Diuric e Ribéry ma attenzione anche a Verdi che potrebbe appunto insidiare il francese quindi potrebbe non ripartire dal primo minuto contro la sua ex Fiorentina Sandro si fa paura? No paura non può far paura a parte Ribéry sono giocatori e diurice poi il resto sono giocatori abbastanza anche sconosciuti ecco non è che abbiano fatto grandi cose Verdi è vero è pericoloso è pericoloso perché è quello che è stato anche l'ultima partita contro l'Udinese l'ultimo minuto è un ragazzo interessante secondo me che può dar fastidio bisogna anche che la Fiorentina non faccia errori in difesa ma devo dire anche contro la Juventus questa disgraziatissima partita Igor ecco devo dire che si è recavata sempre abbastanza bene quindi io immagino che in difesa si possa essere abbastanza solide e ragionevolmente tranquilli il problema è che non dobbiamo non dovremo perdere palloni a metà campo ma soprattutto il problema vero è quello che diciamo da sempre quando arriva il pallone là davanti bisogna vedere di buttarlo dentro soprattutto provare anche a tirare in porta credo che l'italiano gliel'abbia detto perché è un allenatore troppo bravo per non aver dato dei consigli anche banali ma in certe situazioni che io ce l'ho ancora davanti agli occhi la partita di Torino con la Juve in certe situazioni ho visto una Fiorentina che non tirava in porta cioè aveva difficoltà nessuno voleva prendersi la responsabilità signori bisogna prendersi la responsabilità aveva paura ce la prendiamo tutti tutti i giorni nel nostro lavoro quindi quando sei a 20 metri anche spesso anche a 15 dalla porta devi provarci ci devi sempre provare e più che ci provi e più che aumenti le possibilità di buttarla dentro è un calcolo matematico abbastanza semplice quindi non devi contro la Salernitana devi magari farla anche sfogare ma poi dopo colpirla se parti in contropiede ci devi arrivare in porta la devi mettere dentro obbligatoriamente ecco questo è l'assunto che è una cosa sto mi rendo conto di dire delle cose abbastanza semplici banali però è così il pallone il pallone non è poi una roba da scienziati ecco è semplicemente una roba di qualcuno che prende le misure giuste e poi quella sfera la mette dentro tutto lì Sonia secondo te la voglia della Salernitana di rimanere in Serie A sarà superiore rispetto alla voglia della Fiorentina di comunque andare avanti dopo la sconfitta contro la Juventus non voglio nemmeno pensarci che sia così osservando le due squadre ultimamente sarebbe assolutamente deleterio è chiaro che noi veniamo da una batosta e loro vengono da un successo più o meno insperato suppongo perché insomma hanno tutto il rispetto per la Salernitana se no a quel punto di classifica per un motivo ci staranno ecco quindi è l'ambiente che è ostile è il clima che è difficile però ripeto anche Napoli non era che si andasse in billeggiatura a vedere il Cristo velato si andava c'era uno stadio in centomila persone insomma per dire era pieno lo stadio per la prima volta al Maradona loro lottavano per lo scudetto però quello che ti dico la Salernitana con l'ultima vittoria contro l'Udinese ha comunque un atteggiamento diverso perché c'ha proprio voglia di rimanere il seriano chiaramente il paragone l'ho fatto solo per un discorso ambientale in Napoli giocano un modo la Salernitana in tutt'altro modo consente alla Fiorentina di giocare in un modo e poi sarà più difficile farlo con la Salernitana cioè credo che di solito mi sembra quest'anno che la Fiorentina quando ha fatto delle bischerate si è poi ripresa alla grande ecco confido in questo dato statistico cioè che quella di Torino secondo me è stata comunque qualche connotato della bischerata ce l'ha quindi spero vivamente che perché se tu non vinci a Salerno il treno si ferma molte stazioni prima dell'Europa secondo me perché poi allora sì che contro il colpo psicologico diventa pesante da sbaltire da lavorare quando poi ti ripeto devi affrontare tre squadre del livello della Roma del Milan e della Juventus a me piacerebbe arrivare in fondo con la Juventus dove c'è ancora qualcosa per cui lottare toccando di tutto visto me l'andare stanno con loro toccandola qualsiasi ecco però con la Salernitana è uno step che tu devi assolutamente superare con una vittoria poi lo diciamo tutte le volte noi qualche volta giustamente come la simpatica conduttrice ci faceva presente che lei diceva che a Venezia non si sarebbe vinto perché lei c'è la palla è vetro non ce l'ha italiano ce l'ha lei quindi non vogliamo guffarci addosso rievocando quelle situazioni lì è difficile è difficile sembra quasi una bestemmia considerato però delle volte sono in più insidiose queste partite ha spostato il Napoli in testa della classifica e deve aver paura diciamo così di andare a giocare a Salerno è così Giulio prima di andare in pubblicità sì per ricordare appunto quale sarà il programma di questa 34esima giornata che si aprirà nella giornata di domani alle ore 15 con Torino Spezia e Venezia Atalanta quindi i tifosi viola seguiranno sicuramente interessati questa sfida tifando molto probabilmente per i Veneti Inter Roma anche perché in questa giornata bisognerà fare il tifo per le milanesi visto che c'è lo scontro Inter Roma e Lazio Milan quindi Inter Roma alle 18 Verona Sampdoria alle 20 e 45 domenica ovviamente a mezzogiorno e mezzo l'appuntamento con la Fiorentina che sfiderà la Salernitana Bologna Udinese alle 15 in concomitanza con Empoli Napoli alle 18 Genoa Cagliari alle 20 e 45 appunto Lazio Milan la 34esima giornata si chiuderà invece il lunedì sera con il Monday Night che sarà giocato da Sassuolo e Juventus sarà veramente un weekend molto interessante esatto ora noi andiamo in pubblicità e subito dopo ci sarà in collegamento come abbiamo già detto prima Sebastian Frey se dici batterie DC Electromec Batterie Varta un mondo interamente dedicato a pile batterie carica batterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni auto, moto, camper carrozzine per disabili e computer con oltre 30 anni di esperienza non buttare il tuo utensile a batterie Electromec rigenera e sostituisce la batteria del tuo apparecchio da lavoro e per la casa Electromec batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato Pile Varta a Firenze in via Baccio da Montelupo 53B via di Ripoli 69AB via Livorno 27 e via Tosco Romagnola Sud 16 località Fibbiana Montelupo Fiorentino la ditta Traversi Romano si occupa della raccolta recupero e stoccaggio al coperto di rottami ferrosi e non di ogni tipo le aziende possono conferire i loro scarti metallici direttamente da noi oppure usufruire del nostro servizio di comodato gratuito sui container non solo ci occupiamo noi di tutta la documentazione necessaria e del rilascio dei certificati a norma siamo della ditta Traversi Romano di Settimello che commercia in Rottami siamo lieti di accogliervi in sede c'è un motivo per andare al bar Valentina no ci sono mille motivi per andare al bar Valentina dalle colazioni meravigliose alle cioccolate ai cioccolatini ai panini più buoni di tutta Prato ai pranzi veloci e poi si sa al bar Valentina si pagano le bollette si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo bar Valentina a Prato e in via Roma tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30 la domenica dalle 6 alle 13 ma che vuoi di più bar Valentina seguici su Facebook Macelleria Filippo Carni offre la qualità che stai cercando dalla ricercatezza nel gusto per le lavorazioni pronto cuoci ai tagli classici intramontabili puoi trovare anche il nuovo metodo di stagionatura delle bistecche con la tecnica dry aged tipologie provenienti da più zone dell'Europa per un'esperienza unica dal gusto indimenticabile siamo lieti di aspettarti in via del castagno a Prato hai l'auto fuori gioco non relegarla in panchina rimettila in campo con autodemolizioni leporatti il più vasto assortimento di ricambi usati che ti salva in corner se invece pensi che per la tua auto sia l'ultima stagione e non vuoi più ripararla portala da noi con tutti i documenti e chiudi la partita per demolizioni e cancellazioni dal tra di autovetture autocarri ciclomotori motocicli caravan rimorchi e mezzi agricoli autodemolizioni leporatti in via Cepeto 30 all'amporecchio pistoia autodemolizionileporatti punto com io gli ho fatto l'assist e lei la corrigione lo metto la gogna mediatica lo metto la gogna mediatica lo metto poi ci diano a noi diciamo egli cementi in fondo e fulmini perché io ho i due compagni di banco da gestire però ora voi due siete un po' eravamo bravi non ci avevamo mai ripreso ora ci si fa fai più grazie ora io ti metto la gogna mediatica perché lui l'ha detto che vorrebbe venissi Pisa in Serie A si parlava di Serie B ma di che? ho detto preferisco la Toscana al Monza ma io ho detto il Monza sarei curiosa io preferisco nessuno ma in Pisa no perché la benzina la volta professional o meno da lì un 2 mila ah per te ti fa più comodo è certo è certo parlare di un altro a te la storia le simpatie il tipo il campanile ma di te ma io non ti ho detto possiamo mettere un muro? non ti ho detto che per il Monza non provi Barberino in Serie A ragazzi Barberino in Serie A io ve lo dico passiamo allora io vi ho segnato adesso se ti prepari direi che i Barberino avviti il campionale domenica salernitana fiorentina con Giulio abbiamo pensato a questa grafica ovvero nella salernitana ci sono due calciatori un ex viola ovvero abbiamo detto il vecchio che è partito e Luca Reanieri che è comunque in prestito e il giovane che può tornare a Firenze Giulio si esatto abbiamo deciso di fare questo confronto diciamo quasi con rispetto esatto immenso non è un confronto a livello tecnico anche perché hanno due ruoli diversi due ruoli diversi sono sulla stessa fascia ma anche due età diverse due ovviamente carriere diverse però appunto per un giocatore che ha lasciato Firenze la domanda appunto che volevamo porre anche agli ospiti era se tornassero indietro cosa avrebbero fatto con Ribéry se avrebbero fatto un contratto magari adeguargli in contratto a cifre minori per lo spogliatoio oppure se sono contento appunto di aver salutato FR7 per quanto riguarda invece Luca Ranieri è probabilmente uno dei giovani più interessanti in prestito della Fiorentina c'è anche Cristian Quamè che è già a 13 gol anche se nell'Underlecht ovviamente nel campionato belga che non è che valga poi così tanto rispetto a un eventuale prestito in Serie A però appunto Ranieri sta facendo davvero bene uno dei migliori di questa salernità Sonia Nichini poi sentiamo il tuo compagno di banco che vuoi sapere tra i due Ranieri come lo vedi un un possibile giovane che può tornare o lo vuoi al posto di Piragli Sonia questa è la domanda al posto di Piragli anche te allora ragazzi bene bene credo che non si possa fare paragone scelte nel senso 22 anni contro 39 no 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 non li abbiamo paragonati perché assolutamente non si può paragonare Riberia e Ranieri l'unica cosa abbiamo preso i due calciatori abbiamo ancora un po' di rispetto i due calciatori un ex Viola e un'attuale Viola e in linea generale vi abbiamo posto vabbè Fred ci ha fatto vivere momenti molto belli ci ha entusiasmato ci ha dato è stato una ci ha dato dei bei momenti o Matteo oggi ce l'ho a me no ma può per dire non è che ci ha fatto vivere momenti molto belli te che c'hai una memoria storica sicuramente migliore della mia no perché io sono smemorato ti ricorderai la Fiorentina ha vinto anche in passato ha avuto è bella però scusa Sonia ma abbi pazienza che prima hai detto sentiamo di sentiamo di anche un Mario Gomez perché abbiamo pochi minuti e poi abbiamo Sebastiano Fred si non facciamo più le presentazioni faroniche perché portano una sfiga unica esatto io mi ricordo l'Inter che annunciò in pompa magna Gabigol e fece una fine si è vero si deve più fare queste cose faroniche e quindi io ho delle presentazioni sinceramente belle per carità da giornalista è sempre bello prendere parte e fare le proprie domande però poi quello che conta è il campo sul paragone scusa Sonia ormai vuol lungo ormai vuol lungo io dico la mia io sono stato soddisfatto del di come la Fiorentina si è mossa ovvero ha fatto andare via Ribery e ha come dire sfruttato le risorse che dava come stipendio a Ribery per puntare sul Nico González secondo me è un giocatore che può dare molto di più alla Fiorentina oggigiorno poi non si parla di Frank Ribery come giocatore nella sua storia perché è indiscutibile sul Ranieri è un 99 che obiettivamente ha fatto particolarmente bene e io dico una cosa a Firenze nella Fiorentina io preferirei che il terzino sinistro di riserva di Ribery fosse un ragazzo che ha fatto 5 o 6 anni di settore giovanile della Fiorentina che è un ragazzo italiano piuttosto che Terzic senza voler farla autarchico o senza nessun genere di problema verso la nazionalità serba di Terzic non è quel problema però mi sembra che abbiamo un ragazzo italiano cresciuto a Firenze puntiamo su di lui prima che andare a prendere un ventenne piuttosto sconosciuto peraltro dalla Serbia ecco come linea teorica secondo me la Fiorentina dovrebbe scegliere questo progetto dalla parte opposta c'è Gabriele che invece secondo me non è d'accordo perché è andato via non sono d'accordo ma perché parlo con il cuore cioè ti ripeto parlo con il cuore il mio franchino sono sempre stato legato da quando il mio franchino da quando mi seguiva e mi segue ancora sui video è opportunista allora scusa è opportunista io mi sono regalato scusa non mi fa senza mi sono regalato il mio franchino però io penso che avrebbe fatto avrebbe fatto comodo un giocatore di esperienza nella Rosa in quel ruolo ecco io ti dico la verità aveva anche detto che si riduceva l'ingaggio quindi non penso era il problema l'ingaggio io sinceramente gli avrei rinnovato il contratto poi sui Danieri sì è un giocatore di prospettiva anche io sono d'accordo con Fabio non per fare nazionalista però insomma Danieri un giocatore c'è venuti perché non ci può stare Danieri eh il discorso è questo il discorso perché alla fine sono due ruoli simili due carriere molto simili Ranieri molto più giovani Ranieri molto più giovani quindi magari anche una prospettiva migliore io sinceramente ecco anche io preferirei avere un dopo Biraghi un Ranieri poi questo non è che è detto che poi sia il titolare certo però intanto te comunque lo hai Rosa il nostro saggio Benucci su Riberì e Ranieri allora Riberì secondo me della Fiorentina ha fatto bene al netto degli infortuni Riberì io vorrei ricordare ho fatto delle partite a San Siro sia contro il Milan sia contro l'Inter contro il Milan una partitone e noi lo vincemmo quel partitone contro l'Inter potevamo vincere se Vlaovic fosse già avesse fosse stato in quel momento il Vlaovic di dopo ecco il Vlaovic di quel momento e sbagliò clamorosamente il Riberì fece una gran partita trascinò la Fiorentina fece tre gol la Fiorentina e un Riberì fantastico però Sandro non ci ricordiamo vabbè però liberi non ci ricordiamo tutto poi riparlite per cortesia la finisco io sì scusami no perché sennò voglio dire c'è un filo logico che va seguito no 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 c'è Riberì ha nella Fiorentina ha fatto delle buonissime partite ha alzato il livello poi probabilmente ecco bisogna arrivare a fare delle scelte forse indipendentemente dall'ingaggio che comunque era abbastanza oneroso ecco la Fiorentina ha deciso che non sarebbe stato più diciamo utile per questo tipo di progetto e quindi è anche giusto che abbia deciso di fermarlo e di ridargli la possibilità di avere il cartellino Riberì però ripeto nella Fiorentina ha lasciato un ricordo un ricordo importante ricordo di ottime partite ha ragione Sonia e Riberì in alcune partite ha entusiasmato perché la classe l'ha fatta vedere una classe purissima una classe nonostante qualche problema fisico nonostante che non sia un gigante certamente avesse avuto il fisico di Ibrahimovic avrebbe fatto un'altra storia però nonostante un fisico non eccezionale dico come imponenza ecco però le gambe la classe l'ha dimostrata tutta anche a Firenze per quanto riguarda Ranieri il discorso è questo abbiamo già venuti quindi se possiamo prendere Ranieri ma allora deve andar via venuti e spiego perché perché a questo punto cioè non possiamo tenere troppe riserve perché né Venuti né Ranieri secondo me in questo momento sono all'altezza di essere titolari nella Fiorentina quindi venuti è un ragazzo che quando è stato chiamato in causa parte la partita disastrosa cioè l'errore disastroso alla fine della partita contro la Juventus per il resto il suo l'ha sempre fatto però probabilmente io vorrei due terzini anche Viraghi alla fine non è che sia il massimo al capitano non ci sono altri giocatori capaci di prendere la maglia in quel ruolo e quindi va bene ma secondo me i due titolari i due terzini esterni i due esterni difensivi titolari non devono essere né Venuti né 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 Biraghi quindi vorrei che la Fiorentina puntasse più in alto e puntasse su giocatori di una di esperienza e di sicuro rendimento ecco perché troppi ragazzi io per carità l'affetto e la riconoscenza e il fatto che siano cresciuti in casa mi va benissimo ma alla fine bisogna essere anche concreti e quindi ci vogliono giocatori già pronti per ricoprire due ruoli a destra e a sinistra che sono fondamentali Giulio la sua opinione inerenti quindi secondo te Venuti e Ranieri non possono stare nella stessa squadra come due serve una destra o una sinistra perché Ranieri possono anche sì però devi fare delle scelte quindi non so ora io non faccio in questo momento il mercato della Fiorentina ma secondo me se fai delle scelte devi anche puntare su giocatori di sicurissimo rendimento dove ti puoi ti devi fidare di quelli non so se Biraghi probabilmente rimarrà non è il massimo a ragione Sonia su questo è comunque giocatore che commette i suoi errori ma in questo momento non ce ne sono altri quindi se devi puntare su giocatori veri a destra e a sinistra non devi puntare né su Biraghi né su Venuti né su Ranieri devi avere un terzino destro e un terzino sinistro all'altezza del nome della Fiorentina quindi vedi più Biraghi riserva che Ranieri riserva cioè non vorrei troppi titolari che sarebbero secondo me delle riserve ecco Fabio io su Ranieri anch'io sono dell'idea di Sandro che non possa tornare oggi con lo status del titolare a Firenze dico anche una cosa e la ribadisco se oggi la Fiorentina può arrivare a un terzino migliore di Biraghi insomma arriva a un terzino migliore di uno comunque nel giro della nazionale italiana noi lo critichiamo sempre magari Sonia anche alacremente con simpatia però dico non ce n'è tantissimi di terzini sinistri migliori di Biraghi oggigiorno senza andare a scomodare magari giocatori di alta fascia che costano anche tanti soldi e la mia idea è questa poi magari sbaglio i terzini sono importanti al pari di tutti i giocatori della squadra però se uno deve fare un investimento per spendere tanti tanti soldi li spende davvero su un esterno di difesa quanti esterni di difesa davvero valgano un investimento milionario per rinforzare la squadra stiamo a chiederci se lo vale quell'investimento quel tipo di investimento se lo vale Odrio Zola che viene dal Real Madrid quale altro cioè questo è il tipo di profilo che cerca la Fiorentina per sostituire eventualmente Biraghi quale giocatore può arrivare di questo tipo qua per sostituire Biraghi secondo me Biraghi è un titolare della Fiorentina e lo sarà ancora per tanto tempo io Ranieri dietro ce lo vedo e vi dico anche una cosa vi provoco se non proviamo mai il 99 di turno che ha 22 anni quel 22enne non sarà mai pronto per essere da Fiorentina se non gli diamo mai una chance poi dopo tutta la storia la retorica sul calcio italiano che non arriva mai ai risultati o che è in difficoltà in questa fase risparmiamocela perché altrimenti non siamo coerenti con noi stessi prendiamo tutti i giocatori già formati con il rischio però che non siano sicuramente pronti Barreca che aveva una storia sicuramente migliore di quella di Ranieri che ha fatto ottima stagione con il Torino è andato al Monaco al Newcastle quindi un giocatore anche di profilo internazionale è venuto a Firenze e non ha toccato il campo la Fiorentina l'ha pagato sicuramente molto di più di quanto pagherebbe un Ranieri di turno e ha ottenuto poco tutto sommato indietro io non dico che Venuti oggi sia il terzino più forte della Rosa della Fiorentina giammai probabilmente ad oggi è il più debole però è uno che quando vai in campo dà tutto senza dubbio ci puoi contare perché si fa sempre trovare pronto e appunto poi non ti incide tanto sul bilancio quanti tersini titolari dove deve avere la Fiorentina 15 16 tersini titolari secondo me ne bastano 2 allora dopo è proprio lì sì però dopo risponderai a questa domanda perché abbiamo un collegamento non può avere punti deboli la Fiorentina abbiamo un collegamento importante che non dobbiamo far aspettare poi dopo continueremo con questo quesito Sebastian Frey grazie mille per aver accettato il nostro invito è un piacere come sta innanzitutto tutto bene grazie tutto bene per poco poi vi vengo a trovare domenica a Firenze allora la Fiorentina che 57 punti purtroppo reduce da una sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus la prossima gara contro la Salernitana dovrà reagire cosa ti aspetti dalla squadra e da Vincenzo Italiano? mi aspetto continuità in campionato lo sappiamo che insomma la Coppa Italia è stata una parentesi molto bella sarebbe potuto diventare una bella favola perché insomma passare il turno contro la Juve e arrivare in finale sarebbe stato penso una bella ricompensa per questi ragazzi questo allenatore che stanno facendo delle cose importanti però adesso bisogna tornare con i piedi per te e pensare al campionato questa domenica si giocherà contro la Salernitana squadra che comunque sembrava spacciata e oggi arriva da due risultati positivi e si è rilanciata per la lotta salvezza quindi sarà una partita abbastanza complicata da giocare ma io credo che la Fiorentina è pronta e la Fiorentina si gioca anche lei un posto in Europa che si dovrà assolutamente portare a casa per continuare a crescere su quello che stanno facendo da quest'anno Fabio Ferri una domanda per Sebastian Frey beh visto che sono il primo inauguro le domande sui portieri quindi non me la bruciate innanzitutto devo dire a Sebastian Frey che io lo idolatravo dal ragazzino per me è stato il portiere che ho amato di più nei miei anni giovanili quindi è sempre un piacere ritrovarsi di fronte a una persona che si è stimata a un giocatore che si è stimato la domanda ovviamente è su Drongoschi cosa faresti ecco come vedi la situazione del portiere polacco che è partito da titolare e in questa stagione poi l'ha perso quel posto e adesso poi dopo la partita con la Juventus ha tante critiche che piovano su di lui tu ci crederesti ancora o pensi che sia finito il periodo fiorentino di Drongoschi come questo è un po' com'è come portiere no è stupendo il bello dell'anno è stupendo allora no per quello che riguarda Drago insomma ovviamente non nascondo che mi dispiace mi dispiace per l'episodio che è la partita della Juve perché non è mai piacevole vedere un collega quando fa un errore ovviamente quando fa un errore poi viene tempestato di critiche perché ho letto un po' bisogna bisogna considerare un po' l'attenuante che potrebbe avere che giocando meno quello che è successo sono situazioni che quando non sei più abituato a giocare in queste situazioni di lettura della palla delle traiettorie possono purtroppo come è successo posso poi non essere pronto ecco e mi dispiace tanto poi parlando della situazione sua personale ovviamente arriveremo alla fine stagione dove dovrà fare una scelta insieme alla società una scelta importante perché non nascondiamo che Dragoschi si gioca un posto per il mondiale ovviamente senza giocare senza avere tempi di gioco e senza avere continuità sicuramente si giocherebbe questo posto in nazionale quindi questo lo dovrà e penso che lo sta valutando ho letto ho letto oggi non mi ricordo chi ah Maregini Maregini che è un amico e ovviamente ha detto che insomma tutto sommato Dragoschi Teracciano oggi penso che hanno raggiunto un livello più o meno pari in questo momento Teracciano è molto più sereno perché sta sta giocando con continuità quindi sicuramente si sarebbe trovato più pronto a una sfida delicata come quella contro la Juventus però insomma io penso io penso che che la scelta di Italiano è stata comunque giusta perché voleva comunque vedere Drago a che punto stava come stava e io penso che alla fine la scelta sia stata comunque quella giusta a prescindere del risultato che ovviamente rispetto all'episodio mi è tanto dispiaciuto perché credo che lui comunque abbia dato tanto per questa Fiorentina non lo dimentichiamo poi dopo l'infortunio ha fatto fatica a tornare poi c'è Pietro che comunque si è fatto trovare pronto non è facile da titolare ritrovarsi in panchina e farsi di nuovo ritrovare pronto quando vieni chiamati in causa questo è quello che mi sento di dire da ex portiere da collega ecco Sonia sì io in quanto tifosa un po' più grande di Fabio posso dire che è l'ultimo portiere che ho veramente amato dei portieri che hanno difeso la porta la porta viola e lo ricordo guarda fra le altre cose oggi che rimettevo sono una signora quindi faccio le faccende in casa rimettevo delle cose in camera di mio figlio io ho un libro di Frey l'ho messo oggi tra tutti i libri della Fiorentina c'è un libro con il bel faccione stupendo di Seba quindi a parte questo volevo dirti proprio in quello nell'ottica che dicevi tu che Dragoschi si gioca anche il posto con la nazionale eccetera pensi che sia opportuno farlo giocare perché ritrovi la serenità oppure si rischia perché purtroppo l'abbiamo detto tutte le volte che ha giocato quest'anno questo ragazzo ha fatto danni ma alla fin fine per noi ma anche per lui perché secondo me si sta un po' rovinando il suo curriculum in questo momento quindi secondo te andrebbe fatto giocare perché possa ritrovare serenità oppure lo lasciamo tranquillo perché non peggiori la situazione? No io credo che fino a fine stagione non bisogna scombussolare gli equilibri di questa squadra e di questo gruppo io credo che oggi possiamo dire che Terracciano è il titolare di questa Fiorentina perlomeno parlo fino a fine stagione perché non voglio andare oltre e quindi io credo che la scelta di Italiano oggi di dare fiducia a Pietro sia giustificata con le sue prestazioni e anche con l'andamento della squadra per Drago io credo che le scelte verranno fatte a fine stagione perché ripeto e ci tengo a puntualizzare questo perché ovviamente quando il portiere sbaglia siamo sempre sottosposto a tante critiche sono stato dopo la partita contro l'Empoli che la Fiorentina mi ha ospitato è stato un momento magico per me e in più la Fiorentina comunque si è portata a casa la vittoria quindi ero molto contento sono stato un'ora e mezzo nello spogliatoio con i ragazzi e ti devo dire che nonostante questa situazione ho trovato dei ragazzi disponibili gentili molto rispettosi tra di loro paradossalmente ti dico oggi sono molto più preoccupato per Donnarumma Donnarumma al Paris Saint-Germain è vero è vero è un clima veramente particolare è un clima non bello cosa che non ho assolutamente trovato nella Fiorentina mi sono seduto insieme ai tre portieri abbiamo discusso abbiamo riso scherzato poi dico di nuovo quello che ho detto hanno la fortuna di avere Rosati che credo sia all'interno dello spogliatoio che anche per i due portieri che comunque si giocano un posto sia un ragazzo fondamentale per l'umore dei ragazzi per lo spirito dei ragazzi quindi oggi credo che i portieri hanno trovato un equilibrio così non ci sono polemiche anche Drago ho parlato un po' con lui è molto sereno è molto tranquillo lui ha capito la situazione ovviamente mi dice io devo giocare per il mondiale quindi se ne riparlerà a fine stagione ma oggi oggi un problema portiera Firenze non ce l'abbiamo perché la scuola sta facendo bene io credo che Pietro stia comunque facendo bene e quindi io credo che sia giusto andare avanti fino a fine il campionato così Gabriele Mastropietro ciao Seba sono Gabri ciao Gabri ciao no ti volevo chiedere intanto ho ben prenotato il padrucchiere per farmi capelli di frey quindi quello di sicuro e poi ti dico ma Franchino ma li avevi disaffatti sì ma li rifò perché ora sono in clima invernale vedi ancora vedi sono parecchio morto invece ora si va verso l'estate so che i tuoi pelli funzionano parecchio nelle spiagge quindi bocco a pelli di frey Seba poi poi ti dico so che Franchino è il tuo amico soprattutto poi un mio amico social non so se l'hai sentito volevo sapere se ecco se l'hai sentito quanto ci tiene e poi l'ultima domanda Seba se c'è un portiere di serie A in cui ti rivedete cioè c'è un frey in questa serie A allora per iniziare da Frank ci siamo sentiti ieri insomma per semplici messaggi video messaggi audio messaggi per salutarci così sapendo che lui torna comunque a giocare da ex lui ha sempre sottolineato anche con me che comunque Firenze è sempre molto affezionato si è trovato molto bene è stato un po' dispiaciuto lasciare Firenze così però io credo che oggi possiamo dire che fa parte del calcio del mondo del calcio insomma lui si sta giocando la salvezza ovviamente è arrivato alla serenitana da un po' da idolo assoluto del mondo del calcio è stato un sogno per questa realtà per la piazza e ovviamente lui cerca di dare il suo contributo per salvare questa squadra che fino a 3-4 giornate fa era spacciata e oggi comunque è ancora tutto aperto quindi questo è per quello che guarda Frank io credo che saluterà i suoi ex tifosi con grande affetto come ha sempre fatto e io credo che non ci saranno problemi e si riceverà anche gli applausi di tutti portiere insomma portiere italiani ce ne sono qualcuno interessanti guarda ti faccio questa sessione da trovare il mio figlio che gioca nella Cremonese che sta ritornando dall'infortunio ho avuto modo di parlare con Karnasechi il portiere della della Cremonese è un portiere che il suo nome sta girando tanti in questo momento per eventuali futuri mercati è un ragazzo probabilmente molto interessante è sicuramente un ragazzo che è da seguire poi per quello che riguarda qualcuno che mi può assomigliare insomma io avevo detto un po' di tempo fa che nel modo di parare merete un portiere che su certi atteggiamenti un po' mi ricordavo però a oggi lo vedo ancora troppo poco penso che sarebbe ora di dar continuità a un ragazzo così sia per il Napoli ma anche per la nazionale io credo che la nazionale comunque deve avere al minimo 3-4 portieri competitivi perché dopo questa debacle dell'europeo ovviamente e della non convocazione scusate al mondiale ci sarà bisogno di una rosa di nuovo competitivo e se mi permetto ho sentito il discorso prima di entrare in diretta parlavate un po' dei giovani e di eventuali vivai delle squadre io sono completamente d'accordo sul fatto che oggi bisogna puntare sui ragazzi giovani italiani io credo che il vivai italiano ha un potenziale ha delle qualità straordinarie diamo fiducia a questi ragazzi lasciamogli crescere anche se anche se devono sbagliare non al primo errore li dobbiamo mettere accantonare e mettere fuori perché poi bruciamo dei ragazzi che possono diventare veramente dei campioni io credo che se andiamo a seguire a vedere ci sono veramente una generazione di ragazzi molto interessanti da seguire diamo fiducia a queste al vivai italiano Sandro Benucci Firenze Post allora in 60 anni io ho visto 5 portieri nella Fiorentina il primo è Giuliano Sarti Albertosi Galli Toldo e Sebastian Frey questi sono i 5 portieri secondo me che hanno veramente meritato di vestire la maglia numero 1 della Fiorentina la domanda è questa si sta dibattendo su Terracciano prima tu hai parlato hai detto Pietro è il portiere che dà anche affidamento però qui si tratterà alla fine della stagione di fare una scelta è molto probabile 80 su 100 che Dragoschi vada via quindi la domanda è Terracciano potrà essere il portiere titolare della Fiorentina per l'anno prossimo? Allora innanzitutto ti ringrazio di avermi nominato insieme a questi mostri sacri perché qua stiamo parlando di portieri straordinari persone straordinarie quindi far parte di questi portieri assolutamente meritata Sebastian ti ringrazio sono veramente onorato e lo sai quanto voglio bene a questa piazza a questa città quindi sono veramente grazie del complimento per insomma il risorso che ho fatto ovviamente l'ho fatto fino a fine stagione io credo che oggi per finire la stagione Terracciano comunque è affidabile ha dimostrato di essere il titolare di questa Fiorentina ovviamente poi io parlo anche un po' in generale ma non so per il ruolo del portiere se la Fiorentina dovesse andare in Europa cose che spero di cuore perché vorrebbe dire tornare sul palcoscenico europeo e io credo che i colori in viola devono farsi vedere in Europa sicuramente con la partenza l'eventuale partenza di Dragoschi la società dovrà comunque prendere un ragazzo dietro Terracciano o che possa competere con Pietro per essere affidabili su tanti fronti perché lo sappiamo che comunque le competizioni le partite saranno tante e io credo che ci vogliono sempre due portieri affidabili all'interno di una rosa con magari dietro un ragazzo giovane che possa crescere e imparare da questi ragazzi qua quindi il ragionamento mio sicuramente fino a fine stagione io non toccherei e non cambierei niente per la stabilità di tutti e la tranquillità di tutti ovviamente a stagioni finite in base agli obiettivi raggiunti o non sicuramente penso che ci saranno delle valutazioni da fare anche per il ruolo del portiere quello sarà tutto da vedere in base alla classifica della Fiorentina grazie mille Sebastana abbiamo pochissimo tempo per l'ultima domanda di Giulio volevo solo dire Sebastana una cosa rapidissima icone ecco è tornato indietro nella Fiorentina l'hai visto involuto oppure è quello che avevi visto nel Lille allora sinceramente vedo dei lampi vedo dei lampi e a oggi non ho ancora visto l'icone del Lille io credo che sia un ragazzo che ha ancora bisogno di un po' di tempo per esprimere per inserirsi nel campionato italiano non so se è un problema di lingua non so se è un problema di adattamento vedo a scatti dei segnali positivi dei segnali importanti io penso che oggi l'icone della Fiorentina non è ancora quello del Lille ma io penso e spero che con un po' di tempo lui possa dimostrare perché se lui dovesse esprimere tutto il suo potenziale stiamo parlando di un giocatore veramente molto importante ciao Frey innanzitutto ti arrivano tantissimi messaggi a Firenze ovviamente non ti hanno dimenticato una domanda al volo praticamente secca una squadra ha bisogno di un terzo portiere alla Rosati come te citavi prima quindi un quarantenne 35enne che possa far crescere i primi due portieri oppure come terzo portiere vedi magari un giovane dalla primavera che deve imparare dai primi due allora io metterei dietro come terzo portiere un ragazzo giovane in prospettiva futuro importante però un Rosati un Lupatelli io li terei tutta la vita all'interno di uno spogliatoio perché sono ragazzi che soprattutto in momenti delicati di difficoltà riescono a tirarti su uno spogliatoio intero vedo il lavoro che sta facendo Rosati uno mi fa divertire e due vedo veramente che ti fa sempre ti dà sempre quel sorrisino quando vedi quello che scrive quello che fa è molto piacevole io credo che Rosati oggi sia fondamentale per questo spogliatoio quindi insomma io metterei un terzo portiere giovane però insomma terzo quarto poi Rosati comunque non è più il ragazzino di Turo penso che ha capito il suo ruolo all'interno di questa squadra e lo sta facendo molto bene questo è quello che penso grazie mille Sebastian l'ultima domanda te la faccio io il risultato di domenica Salernitana Fiorentina chi vince? non sono fratti indovino quindi non lo so sarà una partita sarà una partita secondo me non semplice da giocare penso che l'italiano lo sa e sta preparando nel miglior modo possibile la Fiorentina deve tornare a casa con dei punti questa è l'unica cosa che mi sento di dire per insomma per cercare di raggiungere questo obiettivo che è ritornare in Europa grazie mille ti aspettiamo anche in studio così potrai venire un giorno qua fisicamente e interagire con i nostri ospiti grazie mille a Sebastian Frey vi posso dire una cosa? certo nessuno stasera ha notato mi sono tagliato i capelli li ho rifatti ma Gabriele dovrebbe essere una volta che sono mi ha fatto un commento Gabriele quello che sta ma io Seba ti stavo studiando infatti perché almeno ora mi faccio te come figurina e vado dalla padrucchiera voglio i tuoi capelli capito Seba ascolta te comincia a farti gli sparati in su come me poi ne riparliamo grazie grazie mille Sebastian Frey andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo sono iscritto in Fiamma per essere consapevole dei miei diritti e farli valere perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso perché il senso civico è al centro della nostra battaglia sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta perché insieme possiamo fare di più ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure perché è lotta resistenza e ostinatamente antifascista campagna di tesseramento FIOM CGL unisciti a noi le vere sfide sono quelle di ogni giorno vivile con Sustainium Plus e il suo speciale mix di vitamine e complesso di aminoacidi e dopo i 50 anni scopri il nuovo Sustainium Plus 50 Plus con la sua formula specifica a fase di vitamine e complesso antiossidante Actiful per sostenere la tua voglia di energia Sustainium Plus e Sustainium Plus 50 Plus Taglia Energia la tua energia è Mellarini Grazie a tutti Puoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse più semplicemente vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità vantando un'esperienza pluriannale nel settore contattaci e scoprirà il nostro servizio all inclusive dall'efficientamento energetico al design ricercato dal servizio manutentivo all'igienizzazione passando per gli incentivi e detrazioni fiscali insomma la nostra professionalità al servizio della vostra estate Format nasce nel 1986 dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione pasticceria e gelateria nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese vasto assortimento di attrezzature usate revisionate e garantite sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori c'è chi pensa ad un contributo per il nostro futuro chi ha creduto in me e nelle mie potenzialità chi non si è dimenticato di me chi fa crescere l'economia sostenendo le imprese con personale qualificato sempre a disposizione Banca Alta Toscana sosteniamo la comunità per un futuro sempre migliore grazie a tutti grazie a tutti Sanfrei per essere insomma stato qua con noi in diretta Fiorentina che se guardiamo ora il calendario che è dietro di me ma anche lo vedrete in onda la Fiorentina affronterà domenica la Salernitana fuori chiasa poi il recupero mercoledì alle ore 18 Fiorentina Udinese la prossima gara poi sarà Milan Fiorentina e Fiorentina Roma che mese si aspetta la Fiorentina poi ovviamente ci saranno altre partite importanti ovvero Sampdoria Fiorentina e Fiorentina Juventus però analizzando queste cinque partite Fabio allora innanzitutto voglio dire che ricordo a tutti gli amici di Toscana TV che per Fiorentina Udinese che è una partita insomma in un orario in un giorno un po' inconsueto ma noi ci saremo a partire dalle 17.45 con la diretta del nostro Andrea Capretti che racconterà insieme a Stefano Cecchi e Roberto Galbiati insomma la squadra della partita che racconterà l'incontro anche questo recupero e poi insomma vediamo il calendario e vediamo due big match quello col Milan e quello con la Roma ma poi appunto abbiamo detto la sfida insidiosa con la Salernitana questo recupero cruciale con l'Udinese insomma qua si decide il campionato si decide la corsa all'Europa della Fiorentina sperando sempre insomma che si possa arrivare in fondo io sono di un'idea diversa rispetto a quella di Sonia sperando di non arrivare all'ultima partita contro la Juve con ancora qualcosa da decidere anche se sarà difficile perché insomma sono tante squadre in pochi punti Sonia guardando questo calendario vorrei dire a Cedempolo a chi ha messo la partita alle 6 perché insomma il giorno di mercoledì alle 6 crea molti problemi vabbè è un po' complicata la situazione però seguiranno noi quindi sì sono tutte partite importanti c'è poco da fare per tutti credo almeno che tu non navighi in una posizione di classifica insignificante le ultime gare sono importanti perché lotta per qualcosa e la Fiorentina lotta ancora per un posto in Europa ci sono partite difficili ci sono problemi difficili come le assenze come abbiamo detto all'inizio della trasmissione che secondo me potrebbero incidere purtroppo purtroppo potrebbero incidere su queste ultime ultime gare però io almeno per andare step by step per fare uno scalino alla volta la salernità nel lunchtime io confido nella statistica che ci porta sempre fortuna il lunchtime ci vede sempre sempre vincenti non sembra perso tanto pezzo è chiaro è vero Gabriele e Sandro sono 5 sono 5 finali perché poi qui non c'è l'ultima neanche la penultima non c'è neanche la penultima quindi sicuramente la Fiorentina deve cercare di fare punti con le cosiddette più piccole tra virgolette quindi pensare poi partita dopo partita senza sottovalutare cioè senza sicuramente andare con la Roma che alla fine è praticamente uno scontro diretto quindi ti giochi in metà Europa secondo me lì e poi con la Juventus alla fine ti dico la verità il sogno del cassetto di ogni tifoso è strappargli qualcosa alla fine all'ultima giornata sarebbe una rivincita clamorosa contro i cosiddetti bianconeri però insomma è logico come ha detto Fabio arrivare già con un posto sicuro all'ultima giornata sicuramente non sarebbe male Sandro allora io spero che Torreira nonostante diciamo la diagnosi non favorevole riesca perlomeno a fare un miracolo e a tornare in campo il primo maggio in occasione di Milan Fiorentina la vedo dura la vedo veramente dura ma avendo avere Torreira nella partita di San Siro contro il Milan vorrebbe dire partire già con una buona base per il resto sono partite che la Fiorentina deve affrontare in condizioni di emergenza a cominciare da quella di domenica a Saverno deve cercare di vincere contro un Udinese che è già abbastanza tranquilla che poi l'Udinese comunque però verrà a Firenze ugualmente non ti regala niente nessuno Greta non è mai successo quindi verrà comunque a fare la partita hanno giocatori pesanti giocatori che hanno bisogno di mettersi in vetrina dell'Ufè è uno di questi quindi pericolosissimo devi fare di necessità virtù e schierare la squadra migliore la squadra che comunque sappia vincere nonostante le avversità sia a Salerno sia in casa con l'Udinese e poi ribadisco il primo maggio è la festa del lavoro si lavori bene a Milano contro il Milan magari con Torreira in campo poi dopo le altre partite la Fiorentina-Roma è uno spareggio chiaramente così come potrebbe esserlo mi auguro che lo possa essere anche l'ultima di campionato Fiorentina-Juventus Giulio una tua idea sono quattro sfide tutte difficili ovviamente il fatto come diceva anche Sandro non avere Torreira fa tanto perché forse il giocatore è più difficile da sostituire sicuramente oltre a essere sfide difficili il problema è che sono molto ravvicinate praticamente si giocano quattro partite però questo un po' per tutta la seriata sì esatto quattro partite in quanto? a tranne per chi deve recuperare appunto la sfida quattro partite che si giocheranno in poco più di due settimane però secondo me il fatto di giocare in casa contro la Roma la vedo come un'opportunità perché sarebbe la possibilità di fare una vittoria non da tre punti ma bensì da sei grazie mille allora di solito Fabio noi guardiamo sempre nell'ultimo blocco il tuo servizio sui numeri di Vinci Guerra purtroppo stasera non ce la facciamo però io l'interrogo e tutti si segnano il numerino quello più interessante e spiegano le motivazioni anche da caso interagiscono stasera purtroppo non ce la facciamo grazie mille Fabio Ferri da Toscana TV Sonia Nichini la signora in viola ciao a tutti arrivederci alla prossima vi aspetto su Firenze e Viola bravissima Gabriele Mastropietro il tifoso viola il tuo post partita sui tuoi canali social domenica dopo la partita speriamo ci manca sui gozzone Sandro Bennucci Firenze post come sempre naturalmente sempre con tutti gli argomenti anche la guerra in Ucraina e tutte le altre notizie però dopo 5 minuti ora sono diventati 5 dopo la fine della partita di Salerno che sarà appunto a mezzogiorno e mezzo Firenze post cronaca commento e le pagelle ovviamente è inutile dire che è bravissima insostituibile straordinaria segreteria di redazione Giulio Falciai grazie mille grazie a te Greta diamo un ultimo dato che riguarda appunto la gara di domenica perché sono attesi 20.000 tifosi della Salernitana alla Rechi mentre pieno sold out praticamente sì mentre tifosi viola 500 che secondo me è un numero altissimo considerando che si tratta di una partita in campagna alle 12.30 e tra l'altro anche distante rispetto a poco benissimo allora vi ricordo gli appuntamenti di A Tutto Gol domani sera con Gianmarco Luccherini proprio per il prepartita mentre come vi ha già ricordato Fabio Ferri domenica alle 12.15 Capretti con l'analisi proprio della partita e la sera Erika Calvani con Gianmarco Luccherini poi lunedì sarà sempre dedicato a Vignolini con A Tutto Gol buonanotte e rimanete sintonizzati sempre su Toscana TV